Ah, sì, sono vero, è chiaro, è una rivoluzione di un nuovo modulatore, il problema nostro è molto entratico, appunto, quindi, il buonforzo non si può essere vedere, ma questa è qui. E' evidentemente il modulatore, la cosa per questa prestazione, a noi adesso, è in Grazie. 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 Ecco. Centro. Centro. Sì, sì, però ti dico una cosa che mi deve dare, mi deve mandare indietro le bozzardine, il cappello, le cigarette, l'esternino e i conservativi che ho lasciato, mi dico che ho lasciato con l'amico. No, no, me ne deve andare indietro. Vabbè, anche per la parola, va bene, passano qui, se ne usa alcun altro, va bene. No, ma sai come, sai come? e allora come le capisce le cose lui, mentre che passano a piedi in testa è come se si fasse messo un capello. Il pericermativo lo doveva mettere il tuo padre quanto a me ha chiuso a tua madre, hai capito? Deveva farlo quello, ma non fare un figlio se si chiude come sei, hai capito? Quello doveva fare il tuo padre, doveva mettere il pericermativo. Prima di dire, più buono, già sarò un figlio se si chiude, va disegnato. Ehi, io sarò desigenze Enrico, io sarò desigenze ma non sono mica un coglione come te, caro mio. E tu vedi pericermativo e le avrei giro per la strada, e tu hai mai raccetto l'incasso. Eh, ma Enrico è sempre un coglione, è inutilizzare via, è un coglione, è fatto come un coglione in tutta Italia. Sì, sì, ma lo sappiamo che è un coglione, appunto che mi sto divertendo adesso a prendere in giro un coglione. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Non ha fatto altro che rubare per tutta la sua vita con la CGL, non ha fatto altro che rubare. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. E se ti volevi scrivere dovevi chiamare una domanda non è che non ti obbligavano, hai capito, entrare con la ciliega e guida con, tu andavi là a 5.090 dove volevi andare, hai capito? Ma non è che però l'ho obbligato, è una tre, vabbè, che per essere accusi dovevano andare da lui a fare la testa, poi venivano i soldi e poi impagnerà i contrattelli di lavoro, quelli sottoposto, turni di lavoro più lunghi e tanto lui si prendeva il portarelle, ma guarda che conosciamo i fattori dei sindacati, e poi venivano i fattori dei sindacati, perché io non ho mai apportato il padone, scusa, te lo fai, mai, 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 hai capito? Non te l'apprende, non vedi, li fanno per fare i co, tu sei onesto, sei portato onesto, non vadare quelli di qua, hai capito? Io andavo con i siciliani, sono con, ma tu non ti arrabbiare, hai capito? Che in onestà ce l'hai sempre avuto? Che in onestà ce l'hai sempre? Ma come facciamo a credere a te, Enrico, che tu gli conti a ricordi? Amma, la conosciamo. Amma, la conosciamo. Pietro, Pietro è tu, stai attendo che tu fa qua, è un ottimo, ha parlato lo cimo, ha parlato lo cimo, ha parlato lo cimo, ha parlato lo cimo. Pietro, andate a correre i treni a sogno, nei combinati di corti di cruze. E poi non ho detto altre cose che si conosce, che quando andavi a pulire i treni, che quando andavi a pulire i treni, guardare i dati da la sua risa, i dimenticare il treno, è che mi porta viajada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.